Riportare il leone di Caprera Marina di Camerota è l'idea lanciata a Milano da Antonio Romano, sindaco di Camerota, in occasione della presentazione del libro diario del velista cilentano Pino Veneroso. Una proposta, detto il primo cittadino, da verificare assieme al ministro dell'ambiente e agli enti interessati all'interno di un piano di marketing volto a valorizzare il vascello e i temi ad esso legati, quali l'emigrazione, la navigazione, l'ingegneria, le tradizioni. La piccola baleniera, per anni custodita all'interno della grotta di Lentiscelle, dal 2007 è stata trasferita a Livorno, dove nel giro di due anni è stato portato a termine il restauro. Tuttavia, da quel giorno non ha fatto più rientro nel cilento, ma ora la speranza potrebbe riaccendersi. A bordo del leone di Caprera, Vincenzo Fondacaro, Pietro Troccoli e Orlando Grassoni, nel 1880 affrontarono l'oceano, compiendo una storica traversata dall'Uruguay all'Italia, un vero primato della marineria per una imbarcazione di quelle dimensioni, appena 9 metri. La traversata, iniziata da Montevideo il 3 ottobre 1880, raggiunse prima la Spalmas il 9 gennaio 1881, poi Gibilterra il 23 gennaio, per concludersi a Livorno il 9 giugno 1881, per raggiungere proprio Giuseppe Garibaldi. Una rotta che ha segnato anche l'avventura in mare di Pino Veneroso, compiuta più di dieci anni fa e che proprio in questi giorni è stata rievocata dinanzi ad uno stupefatto pubblico milanese, presente nella suggestiva sala Conte Biancamano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo stesso autore, riprendendo l'idea lanciata dal sindaco di Camerota sulla possibilità di far ritornare la storica imbarcazione nel cilento, ha proposto un ritorno itinerante. Il vascello a turno dovrebbe essere accolto nei paesi di origine dei tre marinai del Leone, 4 anni a Marina di Camerota, 4 a Bagnara Calabra e 4 ad Ancona. Resta da vedere che cosa decideranno di fare gli enti coinvolti.